E bene, quindi ricominciamo, scusate per questo problemino, io sono Roberto e faccio parte del Collective, Digital Collective, Collective NFT Fortissimo Music, siamo qui con la consueta intervista mensile, siamo ad ottobre, abbiamo anche questo mese due ospiti particolari, come avete potuto vedere anche dai post che sono stati rilasciati questi giorni, si andrà a parlare di libri ed NFT con qualche declinazione sul Metaverse e altre sfaccettature del Web3 che ormai ci sta coinvolgendo sempre di più e non è più soltanto un mondo per pochi. Noi di Fortissimo NFT ci occupiamo non solo di comunicare, di formare, ma anche di personalizzare e creare appunto degli NFT per tutti coloro artisti e non solo che vogliono in qualche modo sfruttare questa tecnologia che ha un grandissimo potenziale. Allora, nel pensare ai prossimi ospiti, quindi questi ospiti, perché abbiamo già avuto una puntata riguardo i libri e gli NFT, sono così, cercando in rete, sono arrivato a conoscere, anche se in realtà chi è in questo settore dovrebbe già conoscerli. Sono due personaggi che hanno scritto due libri appunto e lui, che invito ad entrare anche ai video, si chiama Lars Schlichting, spero di averlo nominato bene, e abbiamo una donna, una lei, che si chiama Silvia Bertelli di Only Musics che anche lei ha scritto insieme a un'altra donna che si chiama Luana Carraffa un libro sugli NFT. Quindi l'invito a farsi vedere, così li salutiamo, potete eventualmente cominciare già da adesso a fare delle domande, qualora ce ne fossero. E così lascio anche presentare, ecco Lars, li lascio presentare autonomamente. Lars, mi senti bene? Sì, sì, io ti sento molto bene, però non capisco come mai non si vede il video, almeno io non mi vedo. No, non ci vediamo. Ah, ok, bene. Anche con una bella illuminazione molto spirituale. Sì. Mentre Silvia la vedo illuminata, radiante. No, madonna. Esatto, va bene. Allora, ragazzi, vedo che c'è un po' di gente già ovviamente collegata. Io vi presento in maniera molto breve, perché poi voglio lasciare spazio a voi nella presentazione. Partiamo dalle donne, partiamo da Silvia Berterli, che oltre a essere una psicologa, giusto del Nord Italia, è la COO di Only Tech Industries, e anche tra coloro che hanno poi ideato, Only Musics, che è questa piattaforma che si occupa di musica nel Web3 con gli NFT. E poi abbiamo il nostro Lars, di cui parlerò tra qualche secondo. Quindi, Silvia, anche scrittrice, e ovviamente sei qui, il tuo libro che si chiama Almeno tu nel Metaverso, bellissimo titolo. Presentati a chi non ti conosce. Buonasera a tutti. Beh, hai già introdotto egregiamente, anche se la prima cosa di me non è psicologa. Scherzo. Ormai sono passati anni, però in realtà è stata parte della mia formazione e la ritengo tuttora molto utile per affrontare tante dinamiche, anche sociali, che sto osservando e che sto vivendo nel mio lavoro. Diciamo che negli ultimi anni ho iniziato a lavorare in ambito tech, prima con un'azienda che si occupava di sviluppo e cyber security, dopodiché con lo stesso team dell'azienda di sviluppo abbiamo ideato, appunto, come dicevi tu, Only Tech Industries. Quindi diciamo che negli ultimi tre anni il mio focus principale è stato sulla piattaforma Only Musics, quindi è stato quello di approfondire la connessione tra blockchain, NFT e musica. Grazie a questo poi ho avuto l'occasione di scrivere il libro. Bene, bene. Ci fa sempre piacere avere donne nel settore della blockchain Web3, sono sempre di più, ci fa sempre molto piacere, perché è una cosa un po' da nerd, quindi non ci fa sentire così poi soli, ecco. Poi abbiamo il nostro Lars Schlichting, giusto? Ho pronunciato bene? Quasi. Schlichting. Schlichting, perfetto. Che è italiano, italo, svizzero italiano, non so, definisciti esattamente perché hai delle radici italiane, poi hai un po' di Germania, un po' di Svizzera, e sei un avvocato che ha a che fare con l'ambiente crypto, blockchain, quindi specializzato in questo settore qui, e sei anche uno scrittore di libri di fantascienza. Prego. Esatto, allora, come dici tu, io sono un po' un misto. Padre tedesco, madre svizzera, però se vado indietro i miei nonni arrivo anche velocemente in Italia. Dunque, sono un po' di tutto. Come hai detto, sono un avvocato, sono attivo ormai da diversi anni nell'ambito del digitale, dunque ho incominciato ancora nel periodo del far west delle ICO, e piano piano siamo evoluti insieme al mercato e adesso siamo più attivi, se vuoi, nell'ambito NFT, di identità digitale, tokenizzazione di real asset, insomma, un po' di tutto. Cosa che ci permette di vedere veramente come cresce questa industria. E la mia grande passione è la scrittura. Io ho incominciato a scrivere testi di diritto, che chiaramente leggono poche persone, e un giorno mi sono alzato e mi sono detto guarda, ho in testa questa storia di fantascienza ormai da anni, che me la immaginavo, e mi sono messo a scriverla. E vabbè, ho incominciato un giorno, poi due, poi tre, per quattro, alla fine è venuto fuori un libro di 600 pagine. Appena. Appena, esatto. Ci ho messo 15 anni, e da quando ho incominciato a pensarla, quando è stato pubblicato, sono passati 15 anni. Dunque non è una cosa velocissima da fare. E comunque quest'anno sono riuscito a pubblicarlo sulla collana Urania, che per gli appassionati la conosco, conoscono per i meno appassionati, è la collana di fantascienza di Mandatore. Esatto. È molto, molto famosa. Diciamo il titolo del tuo libro. Il titolo è Spirito di Napatei. Perfetto. Di cui parleremo a brevissimo. Quindi come vedete, due scrittori con grandi, con varie declinazioni, e quindi sono molto curioso di andare subito nel vivo della questione. Io vedo anche però collegato Paolo Barrai, che ci sta ascoltando da Panama, se non ricordo male, che magari poi se vorrà intervenire potrà farlo e so che è un amico di Lars e quindi lui è anche sempre molto attento a tutto ciò che è vicino al discorso degli NFT. Infatti noi siamo nati grazie al, in qualche modo, al club TerraBitcoin, che è stato fondato da Paolo e noi ci siamo, eravamo alcuni di noi, anzi tutti eravamo soci di questo club e negli anni addietro e poi tramite i ceni e incontri abbiamo formato, abbiamo visto questa affinità sia dal punto di vista della musica che del mondo delle criptovalute e oggi è nato questo fortissimo NFT. Quindi noi siamo curiosi e siamo qui oggi a parlare con altra gente che è altrettanto curiosa perché io immagino, e questo si ricollega alla prima domanda che vi faccio, siete altrettanto curiosi perché poi in qualche modo vi siete avvicinati all'NFT per qualche motivo. Quindi avete curiosato e continuate a curiosare. Qual è stata, Silvia, per te, la prima esperienza con gli NFT? Come si è arrivata a curiosare in questa strana tecnologia? Potevi fare la psicologa e basta? Diciamo che in realtà prima degli NFT è arrivato Bitcoin nel senso che da anni comunque sia avevo la curiosità di approfondire Bitcoin e ho avuto l'opportunità di farlo durante la pandemia, nel senso che come molti durante la pandemia avendo più tempo ho iniziato proprio a oltre ad acquistare e quindi oltre ad investire ho iniziato proprio a studiarmi un po' di blockchain e leggendo soprattutto in quel momento non c'era ancora una community italiana diciamo frizzante come ora anzi eravamo molto pochi mi sono imbattuta nel duo artistico a Catao non so se riconoscete un duo artistico milanese che sono stati diciamo i primi a iniziare a parlare di criptoarte mentre ovviamente era già un po' iniziato il fenomeno anche se molto lentamente oltre oceano era già iniziato il fenomeno NFT criptoarte collectibles con CryptoKitties e quant'altro però io in realtà mi sono avvicinata alla criptoarte diciamo grazie a loro avevo seguito un po' il loro percorso avevo ascoltato mi sembra un loro intervento in Clubhouse forse se non lo ricordo benissimo e da lì diciamo che è nata un po' l'intuizione anche con il resto dei miei colleghi di declinare gli NFT in ambito musicale anche perché in quel momento eravamo proprio in piena pandemia c'era bisogno di trovare delle alternative per supportare anche il mercato della musica in generale il settore degli eventi dell'intrattenimento e quindi da lì insomma è nato un po' è nato un po' tutto ok bene e per te invece l'ASC qual è stata la prima esperienza con gli NFT da scrittore ad avvocato immagino tu non sia proprio nato subito come avvocato specializzato nelle cryptocurrency e tutto quello che riguarda la blockchain giusto? no giusto diciamo che il colpevole che mi ha fatto entrare in questo mondo in questa chat che probabilmente è Paolo ecco dopo intervengo dopo intervengo va bene comunque io ho incominciato sono entrato nel 2016 e ho incominciato un po' come dicevo prima in questo periodo pazzo delle ICO lì ho avuto gente che mi arrivava perché ho incominciato a interessarmi come un po' tutti a un certo punto io ho avuto l'onore sono entrato anche io col bitcoin ho avuto l'onore di avere Giacomo Zucco come docente mi hanno organizzato un incontro io non sapevo niente di bitcoin si leggevo che c'era sta pizza venduta per i bitcoin ma ero sempre convinto che era un giapponese che piazzava della valuta usata dai criminali per riciclare denaro questa era la mia definizione di bitcoin fino al 2016 poi Paolo con un altro paio di amici mi hanno proprio organizzato un'imboscata e ho avuto Giacomo Zucco che è arrivato ma mi ha spiegato cos'era bitcoin io mi ricordo che ancora la sera stessa arrivo a casa mia moglie mi vede al computer andare sulla tastiera insomma che stavo facendo qualcosa e dice ma cos'è che fai la sera così tarde il computer gli ho detto guarda ho scoperto una cosa sto comprando dei bitcoin perché sono qualcosa di unico e vi è incominciato poi ho avuto appunto i primi clienti nel mondo delle ICO dunque lancio di nuovi token poi c'è stato il primo bear market si è un po' calmato tutto poi si è ripartito e come dicevo l'ho visto un po' maturare questo mercato e poi sono arrivati gli NFT ho fatto ho lavorato ho fatto qualche cliente che faceva le piattaforme NFT dunque l'ho aiutato a mettere in piedi la piattaforma NFT da un punto di vista legale è davvero incominciato lì con gli NFT e adesso abbiamo gli NFT che usiamo che però non sono proprio arte o meglio non è arte digitale come è nata ma piuttosto come un token per creare un token unico di oggetti reali per esempio uno dei progetti che sto facendo adesso che è abbastanza interessante è la tokenizzazione di un quadro medievale dove prendiamo proprio tagliamo il quadro digitalmente se vuoi e sarà uno dei primi progetti dove il token oltre che avere una rappresentazione del quadro rappresenta anche proprio la comproprietà del quadro dunque una percentuale di proprietà di questo quadro medievale ed è un bel progetto perché unisci la storia è un quadro del sedicesimo secolo con il nuovo con il digitale con questo elemento rivoluzionario che è la blockchain bellissimo sì sì bellissimo e questa è una cosa che poi andremo magari a snocciolare meglio perché riguarda anche la tokenizzazione poi degli asset reali e quant'altro ma volevo tornare da Silvia e chiedere perché nella prima parte volevo parlare sicuramente dei vostri libri che ovviamente mi hanno creato un bel paradosso perché ho letto almeno tu nel metaverso io ho chiesto a Silvia ovviamente parliamo di metaverso no parliamo di NFT perfetto poi ho chiamato Lars ho detto guarda questo è un libro di fantascienza mi hanno detto che parla di NFT vero no parla di metaverso cioè o meglio c'è il metaverso collegato al libro in che senso quindi un delirio quindi partiamo da Silvia almeno tu nel metaverso come è nato questo libro parla di NFT giusto perché hai fatto questo libro perché hai scelto questo titolo e soprattutto questo usare la forma cartacea per spiegare le NFT oggi la vedi una cosa funzionale può avvicinare un po' tutti quelli che sono ancora ignari di questa tecnologia sì no insomma considerazioni a riguardo sì questo libro nasce proprio dal desiderio di divulgare e di raggiungere persone che altrimenti non avremmo raggiunto negli ultimi anni abbiamo appunto ci siamo occupati di sviluppare la piattaforma ma non potevamo limitarci a sviluppare la piattaforma e cercare artisti quello che dovevamo fare e che abbiamo fatto o cercato di fare è stato proprio quello di fare un'attività educational quindi noi abbiamo partecipato io in prima persona ho partecipato a moltissimi eventi legati all'industria musicale nel quale ho cercato di spiegare non tanto la mia piattaforma o di vendere diciamo l'utilizzo della piattaforma quanto di spiegare in che modo la blockchain e strumenti come gli NFT potevano sbloccare dell'opportunità per gli artisti per gli artisti in primis e poi anche per tutti gli altri stakeholder dell'industria musicale quindi questa è diventata proprio una mission anche personale in uno di questi in uno di questi interventi uno di questi workshop l'ho fatto insieme uno di questi workshop l'ho tenuto insieme a Luana Caraffa che è appunto la coautrice ed è la cantante la cantautrice di una band che si chiama Bella Donna una band molto attiva attiva da vent'anni con sei album loro sono stati i primi in realtà in Italia contemporaneamente diciamo a Morgan o comunque appena prima di Morgan a creare un NFT bene e i primi ad associare in realtà all'NFT i diritti di proprietà sul master del brano questo perché loro sono negli ultimi anni stanno lavorando moltissimo con le sincronizzazioni hanno molti dei loro brani sono utilizzati in trailer cinematografici hollywoodiani quindi hanno hanno considerato associare l'NFT i diritti sul master una buona idea diciamo come una buona leva commerciale per spiegare l'NFT e per effettivamente creare una progettualità che avesse senso per loro questo scusami se ti interrompo questo prima ancora che ci fosse una regolamentazione chiara sugli NFT immagino sì sì esatto si trattava del 2020 se non sbaglio ok quindi ancora una volta le donne arrivano prima e ancora una volta ci troviamo poi a chiedere e lo chiederò poi al Lars avvocato come fare oggi con questa regolamentazione loro quindi come si stanno muovendo a riguardo mentre Lars in questo libro Spirito di Napatei appunto come dicevo scherzosamente prima è un libro di fantascienza di 650 pagine che ha a che fare con alieni un sacco di personaggi ho letto bellissime recensioni non l'ho letto perché diciamo io dopo 100 pagine non ce la faccio però no scherzi a parte lo leggerò appena avrò la possibilità però perché dico questo perché come ho detto prima appunto ha a che fare con ci sono degli NFT e il metaverso ma non il libro o meglio il libro ti è servito poi per prendere spunto e per creare appunto uno dei cinque metaversi che vuoi creare spiegami come come siamo arrivati dal libro all'NFT per sbloccare i metaversi allora come dicevo ci ho messo 15 anni da quando ho avuto l'idea se volete scusate ma ogni tanto va via la luce da quando ho avuto l'idea a quando ho veramente pubblicato il libro dunque quando ho incominciato non conoscevo ancora bitcoin e non esistevano neanche i metaversi quando ho cominciato a scriverlo il libro l'hai detto tu è un libro di fantascienza dunque racconta le avventure di un ragazzo fra 150 anni dove la terra è stata scoperta dagli alieni e è un libro secondo me anche molto sociale molto racconta tanto della diversa storia anche dell'umanità perché in realtà il libro parte dal presupposto dove la terra è un po' il pianeta povero il pianeta più debole tecnologicamente meno avanzato rispetto alle altre razze e hanno paura di fare un po' la fine che hanno fatto i popoli latinoamericani quando sono arrivati gli europei dunque il concetto parte da quello e da lì si sviluppa tutta una storia quando ho scritto il libro dopo bisogna promuoverlo questo libro e visto che purtroppo leggere i giovani non leggono più tanto lo vedo anch'io con i miei figli ma lo vedo anche con la gente che mi ha fatto le congratulazioni per il libro come dicevi tu le recensioni vengono tutte da gente che ha una certa età tantissimi mi hanno detto ah Lars hai pubblicato su Rania mi ricordo quando da bambino leggevo Rania mia mamma mi comprava gli Urania dunque gente più o meno della mia età i giovani no di leggere fai un po' fatica a invogliarli a leggere e allora abbiamo deciso di fare il metaverso abbiamo detto ma proviamo col metaverso a fare due cose la prima è far rivivere le avventure del libro a chi ha letto il libro che gli è piaciuto ha detto che bello il libro guarda nel metaverso posso immedesimarmi nel personaggio e rivivere le sue avventure dall'altra creare un gioco che potesse piacere alle giovani generazioni e invogliarle a leggere il libro a dire ma questo gioco non è neanche così male c'è una storia dietro non capisco bene qual è la storia voglio saperne di più prendi il libro e la leggi dunque è così che è nato il progetto l'idea di fare cinque metaversi sono cinque scene del libro che sono cinque parti della storia se vuoi per adesso ne abbiamo fatte due dunque c'è il metaverso della partenza dove il protagonista parte dalla terra per andare sullo spazio e c'è il metaverso della stazione spaziale che è Napatè il nome della stazione spaziale dove si svolgerà buona parte dell'avventura del protagonista e dove lì vai a visitare proprio anche tutti i quartieri alieni e quant'altro dunque abbiamo incominciato così facendo il metaverso e a un certo punto Roberto Gorini che immagino tutti qua conoscano è saltato fuori e mi ha detto Lars ma bello il tuo libro dai che facciamo gli NFT e dunque lui si è messo a creare le immagini dei personaggi con l'intelligenza artificiale per creare degli NFT che poi cercheremo in un modo o nell'altro di integrare nel metaverso sì Roberto Gorini che abbiamo intervistato il mese scorso o credo sì insomma poche live fa e quindi bello questa cosa che come dire utilizzare un NFT oggi come vedete abbastanza basta un po' di creatività un po' di fantasia si può inserire in parecchi contesti quindi siamo partiti da la storia di Silvia di questo libro che ovviamente è nato grazie anche a questa collaborazione di questa bella donna di questo gruppo rock credo un gruppo rock che ha creato questo che ha visto lungo riguardo gli NFT così come qualcuno che riguardo ora parlo di Lars qualcuno che ha suggerito a lui di usare gli NFT per credo una specie di password giusto per passare da un metaverso a un altro o quantomeno cose che possono essere acquistate per poter accedere a qualche altra dimensione dico bene Lars oppure ho compreso male no adesso se il concetto è che tu fai il primo metaverso ricevi un NFT pass quello sì che ti permette di passare al prossimo invece con Roberto stiamo proprio pensando di fare gli NFT dei protagonisti del libro quindi gli NFT un po' più artistici quindi abbiamo una specie di collectible una sorta di NFT usato come pass e poi nel caso di Silvia e di questa Luana Carraffa NFT che hanno a che fare con appunto le royalty che sono collegate poi al master quindi guardate come e lo dico a chi ci ascolta come la versatilità dell'NFT poi torna in questi tramite questi questi personaggi che adesso che siete voi in questo caso ma l'abbiamo visto anche con gli altri ospiti bene prossima domanda per Silvia parlando di NFT parlando di arte di varie declinazioni degli NFT parliamo di Holy Musics che cos'è dato che è abbastanza importante oggi in Italia avete partecipato a parecchi eventi e spiegaci un attimino cosa fate e se ci sono delle novità al riguardo perché poi ho una domanda da farti insomma subito dopo parlando di questo di questa piattaforma di questo protocollo che avete creato sì Holy Musics è una piattaforma una piattaforma che è nata come diciamo marketplace NFT appunto verticalizzato sulla musica ma diciamo che tende a voler essere e abbiamo già iniziato un vero e proprio ecosistema per il mondo della musica noi abbiamo diamo la possibilità agli artisti di diventare creator e quindi attraverso un'interfaccia molto semplice di andare a creare i loro NFT quindi noi mettiamo a disposizione l'interfaccia mettiamo a disposizione il nostro smart contract abbiamo poi diciamo sviluppato tutta una serie di funzionalità proprio verticalizzate sull'industria musicale per differenziarci dagli altri marketplace vi faccio alcuni esempi è possibile in fase di creazione dell'NFT per esempio andare a specificare diversi shareholder quindi proprio in fase di creazione è possibile andare a indicare quali wallet hanno diritto una percentuale sulla vendita dell'NFT questo pensato per quelle situazioni in cui magari abbiamo una band di fronte ma anche in cui abbiamo un manager un autore un compositore e c'è bisogno proprio anche solo a livello di creazione di specificare prima i shareholder abbiamo integrato la possibilità di inserire proprio una licenza prima abbiamo parlato appunto di diritti sul master considerate che è la prima volta che abbiamo parlato di NFT a un'etichetta discografica perché quando abbiamo iniziato a sviluppare la piattaforma non ce n'erano a cui fare riferimento di piattaforme soprattutto in Italia non ce n'erano ma verticalizzate sulla musica nemmeno nel resto del mondo e quando abbiamo iniziato a raccontarla alle etichette ai distributori agli artisti la prima domanda che ci facevano era proprio questa ma cosa succede quando io carico un brano in un NFT cosa succede me lo possono rubare me lo possono copiare e quindi lì abbiamo fatto tutto un lavoro sia per spiegare che appunto l'NFT non è il media in sé per sé ma sono dell'utilità dei diritti di proprietà associati a quel media e grazie anche al dialogo con queste con queste realtà abbiamo proprio preso degli accorgimenti come la possibilità di integrare una licenza e molti altri e molte altre funzionalità proprio verticalizzate quindi la possibilità di caricare i brani in modo diverso rispetto alla copertina al video e quant'altro e quindi ecco diciamo che la piattaforma negli ultimi due o tre anni abbiamo cercato oltre a fare divulgazione a fare onboarding di utenti sia artisti che utenti finali e ovviamente nonostante nonostante tutto facciamo comunque abbastanza fatica sia a spiegare effettivamente l'opportunità che ci sono appunto che possono nascere ma proprio il funzionamento in sé nonostante abbiamo cercato di abbassare la barriera tecnologica al minimo quindi di sì ok chiaro chiaro e infatti è interessante anche questa cosa che tu hai questa azienda che ha base in Italia mentre Lars che è in Svizzera Lugano ha la possibilità di mettere su un progetto come quello che appunto ha citato prima e non si deve rifare alla regolamentazione del mica dico bene Lars c'è questa cosa per voi è molto più chiara a livello di regolamentazione almeno in Svizzera e anche il discorso degli NFT e di come devono essere poi gestiti perché se parliamo dell'esempio di Silvia con Bella Donna e oggi loro come si dovrebbero muovere in maniera molto diversa rispetto a una stessa persona che ha fatto questa cosa in Svizzera nel 2020 giusto? Allora prima di tutto direi attenzione che gli NFT in teoria sono esclusi dalla mica poi bisogna fare un'analisi un po' più approfondita perché anche il legislatore europeo dice non potete chiamare tutto NFT solo per non applicare la mica però se uno fa un NFT che è un vero non fungible token dunque un token univoco in teoria la mica non si applica in Svizzera abbiamo naturalmente quando parlo io va via la luce in Svizzera quello che abbiamo di interessante è l'approccio perché la Svizzera ha da subito detto guardate so che c'è questa nuova tecnologia che si chiama blockchain che permette di fare cose un po' strane però noi facciamo un approccio fintech neutral lo chiamano dunque neutrale da un punto di vista tecnologico e pertanto applichiamo leggi che sono state scritte fatte ancora prima dell'avvento della blockchain prima dell'avvento del bitcoin le applichiamo per principio anche ai token agli NFT e tutto quello che viene creato tramite la blockchain pertanto noi da subito abbiamo avuto delle regole abbastanza chiare su cosa si poteva fare e non si poteva fare con i token poi in un secondo momento il legislatore è arrivato e ha detto ok ora che la tecnologia è un po' più conosciuta e anche sul mercato ci sono sempre più società che usano questa tecnologia ci rendiamo conto che ci sono comunque delle norme un po' particolari che dovremmo fare e hanno allora innestato proprio un'operazione direi di dettaglio nelle normative già esistenti dunque il codice civile il codice delle obbligazioni la legge sulle banche e quant'altro hanno innestato delle normative degli articoli direi specifici sulla blockchain che dunque ci hanno permesso di andare oltre questa normativa per principio risultato abbiamo una base legislativa direi molto snella molto anche adeguata a quello che è la tecnologia blockchain che in alcuni casi è anche abbastanza pesante perché comunque se voglio fare per esempio la custodia di token di pagamento come il bitcoin o le stablecoin diventa subito attività bancaria ho bisogno subito delle autorizzazioni abbastanza importanti però per quello che sono gli NFT ci permette di fare tutte le piattaforme che si vi raccontava prima per esempio io ho addirittura due clienti che stanno cercando di fare più o meno la stessa cosa che Silvia ci ha aperto la strada la nostra facilità sta nel discutere con il regolatore dunque noi possiamo veramente andare davanti alla finma che è la consob svizzera e dirgli cara finma guarda che io voglio fare così guarda che io voglio fare cosa con i token con gli NFT con delle piattaforme blockchain mi confermi che lo posso fare mi dai per favore una lettera scritta che conferma che non ho bisogno di nessuna autorizzazione non sto ledendo nessuna legge e la fin mi risponde e una volta che questa lettera devo dire che è tutto più facile perché allora i rapporti con le banche sono più facili i rapporti con i stakeholder sono più facili perché hai una conferma da parte dell'autorità che ti dice stai facendo le cose in modo appropriato conforme alla legge e io non interverrò e non dirò che non puoi fare quello che stai facendo chiaro chiaro quindi loro hanno già le idee chiare e aiutano sicuramente voi a lavorare bene quindi mi viene una domanda tecnicamente Silvia potrebbe dire ok mi faccio una base in Svizzera e risolvo il problema allora dipende in realtà dipende cosa vuoi fare Silvia in Svizzera sei sicura che se fai la tua piattaforma NFT riusciamo a farti avere questa conferma dal legislatore che è tutto a posto e abbiamo delle leggi che mi dicono cosa posso fare e cosa non posso fare poi il concetto il punto è poi come disegni l'NFT onestamente sta tutto lì perché se tu fai l'NFT in modo che questo NFT non rappresenti ad esempio le royalties ma magari piuttosto il diritto di proprietà giustamente Silvia parlava di NFT che rappresenta la proprietà del master e non l'NFT che mi dà le royalties c'è una differenza di concetto enorme perché in uno sei ok un real asset token ed è solo proprietà e dunque lo posso vendere nell'altro attenzione sono un diritto mobiliare dunque una securities e dunque c'è il prospetto e un sacco di normative che si applicano ora nel primo caso se io vendo solo una proprietà personalmente penso che sto vendendo una proprietà non c'è nessuna legge che me lo vieta anche cross border se invece vendo una securities lì ci sono per ogni paese delle restrizioni e diventa tutto molto più difficile dunque se vuoi il mio ruolo come avvocato quello che faccio veramente tanto come lavoro è disegnare la token economics dei token per fare in modo che non ricadino sotto il diritto finanziario dunque non vengono qualificate come securities con tutti poi i limiti che incombono alle securities ok Silvia vuoi dire qualcosa ti ho interrotto no 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 sono in senso d'accordissimo con l'Arsi infatti quello di cui ho parlato è proprio il diritto di proprietà sul master e non abbiamo ancora appunto è nella roadmap ma non abbiamo ancora lanciato invece la sezione investing e lì è tutto un altro paio di maniche perché lì allora bisogna appunto andare a inserirsi in una cornice normativa diversa noi in questo momento parliamo di proprietà su determinati asset e ovviamente poi anche la piattaforma consente di far quello rispetto a tutta la sezione investing con forecast o quant'altro ok ok e aggiungo una domanda in base a quello che hai citato prima dicendo bisogna non bisogna chiamare tutto un NFT bisogna veramente creare una cosa che sia non fungibile ma quindi la numerosità quindi bassa o alta è un fattore molto importante per per la insomma per la comprensione di che cos'è un NFT ma anche per inserirlo in un contesto poi regolamentato oppure no quindi se io faccio 10.000 NFT rispetto a 5 c'è una differenza posso chiamare entrambi NFT se ne faccio 50.000 sono sempre limitati ma sono tanti cosa c'è qualche differenza? Lars? non so non so per chi sia allora guarda quando tu mi dici faccio 10.000 NFT sorrido perché se NFT vuol dire non fungible token come fai a farne 10.000? sono tutti diversi ma come li fai diversi perché abbiamo già visto dei casi dove hai il token che è uguale mi dicono no è diverso il numero è come diverso il numero di serie onestamente questo se penso che sia proprio quella casistica che l'Unione Europea nel mica dice gli NFT sono escusi ma attenzione che se mi fate degli NFT che in realtà sono fungible per me non sono più degli NFT dunque il semplice fatto di dire faccio un token che ha gli stessi diritti di tutti gli altri dunque ogni token rappresenta esattamente la stessa cosa però c'è solo un numero che cambia e che rende un token diverso dall'altro qui ho i miei dubbi che questo token non ricada sotto l'amica d'altra parte invece se faccio anche 10.000 token ma ogni token ha un'immagine diversa pensa alle borep per esempio ogni borep è diversa non è semplicemente un numero è proprio non c'è una borep che è uguale all'altra poi con dei caratteri che sono più rari dei caratteri che sono meno rari ecco che ogni NFT ha un valore diverso e che cosa succede non puoi avere cioè se hai un mercato secondario ogni NFT ha un valore diverso invece se fai un NFT che è praticamente identico e ma io non parlavo di NFT identici ovviamente parlo di NFT diversi tra loro un collectible quindi parliamo appunto di borep o le scimmiette piuttosto che i gattini esatto però sai con le immagini d'opere d'arte ti va ancora abbastanza veloce e bene però se noi pensiamo per esempio alla musica Silvia parlava di musica giustamente lei ha detto un NFT se io faccio più NFT dello stesso brano che lì cominciamo possiamo cominciare a discutere ma ancora un NFT ma quante coppie ne fai noi per esempio un caso che ho io invece di fare un NFT per il brano tagliamo il brano in più NFT in più token ok dunque dove io posso ho quello che io chiamo un token di comproprietà dunque il token mi rappresenta la comproprietà del brano poi a quel punto io posso avere anche dei token tutti uguali dunque non è più un NFT però ho la comproprietà e se tratto bene questo token se riesco a farlo in modo corretto anche in questo caso non è un valore immobiliare perché io ho solo la proprietà non ho il diritto finanziario legato al token ma ho il diritto di proprietario che mi include anche i guadagni del token come se avessi un immobile e ricevo l'affitto qua ricevo le royalties però appunto ho tokenizzato la proprietà non la royalties stessa e non posso venderlo questo questo NFT non posso trarre profitto vendendolo ma posso solo scambiarlo cioè posso venderlo per stable e e comunque a livello proprio legislativo a livello di tassazione cosa succede rispetto a scambiarlo per un altro NFT che ha un valore maggiore magari allora tu lo puoi cambiare poi lo scambi con un altro token che secondo te è lo stesso valore del tuo chiaramente e di solito lo scambi come hai detto tu prima con le stable coin contro qualcuno che vuole quel token e ti paga allora che conseguenza ha prima di tutto si può fare sì di nuovo dipende da come disegno il token però venderlo posso di sicuro il vero problema è che se sbaglio a fare il token e per esempio il token dovesse essere qualificato come una security dunque come un valore immobiliare io devo fare un prospetto e se non ho fatto il prospetto poi questa vendita in realtà può essere annullata e io ho una responsabilità come mittente perché ho venduto qualcosa senza rispettare le normative però se le rispetto e vendo questo token perfetto lo posso fare in caso di soldi conseguenze fiscali dipende dal tuo paese di residenza per esempio in Svizzera sarebbe capital gain free non paghi nessuna nessuna imposta in Italia probabilmente invece capital gain è tassato e sarei tassato in aliquota su questo guadagno che hai fatto con la vendita di questo token chiaro chiaro sì dipende anche dalla residenza che uno ha non necessariamente se sta in Svizzera è svizzero quindi si parla anche della residenza e va bene grazie domanda per Silvia abbiamo parlato di Only Musics e della difficoltà che tu hai che trovi insomma come altri anche noi di fortissimo ma tante altre start up nel divulgare nel spiegare veramente semplici anche con parole semplici nel far capire che è una cosa buona è una cosa che serve che alla fine apre tante possibilità tanti mondi ed è una cosa nuova quindi anche se le cose nuove spaventano è giusto investire in questa cosa quindi quando ci si rivolge a un'etichetta piuttosto che a un artista stesso pensi che per esempio lì abstraction account quindi questo nuovo formato ethereum possa aiutare ad alleggerire parecchio e a tutto questo processo perché prima c'era il discorso del wallet con le 12 parole 24 parole quindi uno magari un artista oltre a dire sì va cosa ci devo fare con questa NFT come la community può arrivare a me come lo deve aprire un wallet lo deve prendere la coin insomma tutto la transazione pensi che questa nuova tecnologia possa aiutare come e cosa ne pensi di questi nuovi account wallet invisibili o abstraction account che era una serie di features o smart account possiamo chiamarli in un sacco di modi no io penso che sicuramente per via di innumerevoli ragioni possano facilitare l'onboarding e aprire l'utilizzo a migliaia di utenti insomma per diverse ragioni dal da quello che dicevi tu rispetto alla conservazione della chiave privata o della safe phrase che nonostante tu possa spiegare di conservarla in un paper wallet oppure di salvare è sempre un bagno di sangue che ti dice oh mio dio l'ho persa come faccio a recuperarla e tu dici non c'è modo di recuperarla perché è una tua responsabilità conservarla e in quello sta il bello in realtà perché noi sappiamo che c'è parte dei durati della medaglia no dalla parte abbiamo la possibilità di essere i reali proprietari di qualcosa dall'altra anche la responsabilità di conservarla quindi in questo senso sicuramente la possibilità di recuperare il proprio account o di o di autorizzare più persone fidate a conservare parti delle chiavi per consentirti il recupero dell'account sicuramente sono dei fattori sono dei fattori utilissimi voi le utilizzate voi le utilizzate non ancora non ancora anche perché c'è quel tempo anche se l'integrazione è molto più semplice rispetto ad altre cose considera che adesso non mi ricordo quando effettivamente si è passato ma marzo mi sembra che si è diventato qualcosa del genere quindi sicuramente lo faremo ma non l'abbiamo ancora fatto si considera che in piattaforma da noi ovviamente c'è la possibilità di iscriversi con di accedere con Metamask o altri wallet e quindi external wallet oppure noi proprio per come dicevo prima abbassare la barriera tecnologica abbiamo fatto in modo di integrare un provider si chiama Web3out che utilizza i provider i social identity provider come Google Apple per creare un wallet però self custodial quindi noi poi restituiamo non siamo in possesso della chiave privata Web3out restituisce la seed phrase e quant'altro però è comunque una difficoltà è comunque una difficoltà quindi secondo me i smart account insomma gli abstraction account sicuramente vanno ci porteranno un sacco di daranno molto più facilità ma anche per le piattaforme stesse noi per dirti una delle difficoltà è quella che i creator devono avere dei vabbè noi siamo noi utilizziamo Polygon come blockchain i creator per creare in effetti per mentare devono comunque avere anche solo 0,05 quindi devono avere un quantitativo bassissimo di criptovaluta per poter mentare quindi scrivere sulla blockchain e molti non ce li hanno non hanno ovviamente già vi viene da ridere perché so già quello che penso incredibile cioè la frazione di un centesimo sembra fantascienza e qui l'altro noi cosa abbiamo fatto noi all'inizio mandavamo a tutti gli utenti iscritti mandavamo mandiamo i 0,05 come regalo per potergli consentire di almeno fare il primo i due minting scusami se ti interrompo perché questa è una cosa molto interessante che hai detto e poi ci torniamo e chiedo a Lars ma proprio con l'abstraction infatti immagino stessi per dire questo non c'è più la possibile cioè quello che uno si va che quello che permette di fare di creare appunto degli smart contract che vanno a creare degli account vuoti senza token senza niente ok quindi non hai più esigenza di appunto utilizzare Polygon Polygon Ethereum per fare le transazioni ma se OnlyMusic fortissimo NFT va a creare una specie di un account tramite questa tecnologia e noi andiamo a regalare dei token per fare le transazioni ok e oppure li utilizziamo anche degli NFT eccetera per esempio questi token come vengono poi riconosciuti dal Mika se sono regalati a loro se vengono usati solo per le transazioni oppure noi avendo questi 10 token un valore magari di un dollaro l'uno come ci andiamo a porre nei confronti poi della regolamentazione non so se sono stato chiaro sì guarda la realtà è che non è per il fatto che tu stai regalando un token che la qualifica del token cambia dunque un Matic rimane un Matic anche se tu ti metti a darne 0,05 ai tuoi utenti è chiaro io capisco Silvia assolutamente tanti lo fanno per far spiegare alla gente come funziona gli dai un po' di cripto per poterli utilizzare e per poter fare i primi minting la vera problematica potrebbe essere fiscale perché tu stai regalando dei token ma visto che parliamo di importi veramente esigui che vengono fatti per motivi di marketing non c'è nessun problema cioè tu come società li contabilizzi come appunto marketing o spesa di piattaforma li dai a questi wallet sono importi se il fisco dovesse arrivare tu comunque puoi far vedere che hai dato o non so io invento 20 centesimi di euro a mille indirizzi diversi anche il fisco si rende conto che non è che stai facendo tutta una truffa per incassare 200 euro di dividendo senza pagare le tasse che sono spese di marketing e te le riconosce e considera e considera che con l'abstraction account in realtà non è che tu regali i token hai la possibilità proprio come piattaforma di prendere in carico le gas fee quindi di nuovo diventa ancora più semplice o di creare dei token ex novo di creare il tuo token che puoi utilizzare per far utilizzare per le transazioni sì lì è tutto un altro mondo però tutto lì è tutto un altro discorso cioè dovresti creare un utility token tuo quello stai dicendo da utilizzare in piattaforma sì esatto io vado a regalare il mio token che è quello specifico che si utilizza per fare degli scambi o per per pagarti le fee insomma nell'acquisto di un NFT eccetera quindi non vado a utilizzare un Matic ma creo il mio Roberto token che suona anche bene tra l'altro quindi io volevo fare lo Schlittcoin ma era un po' difficile da provare sì esatto va bene io rinnovo l'invito a tutti coloro che ci stanno ascoltando a fare anche domande ne vedo un paio in chat che faccio subito e sono credo ambedue per Lars ma mi raccomando non lasciate Silvia boccasciutta perché qua gli argomenti ce ne sono Lars c'è una domanda per te smart account sì ma c'è il rischio di finire anzi no credo che sia per Silvia questa non è non è definita comunque smart account sì ma c'è il rischio di finire in uno scenario custodial rendere una piattaforma simile a Exchange giusto allora io ammetto che ho un po' di lacuna ancora su come funzionano esattamente questi smart account la domanda che ti porre è chi tiene le chiavi chiaramente perché se le chiavi la tiene la società dunque la società ha in un modo o nell'altro la possibilità di intervenire sugli account poi sì allora c'è un problema di custodia aspetta di custodia non tanto di Exchange che si pone però attenzione solo con i payment token dunque Ethereum o una stable coin basata sulla blockchain di Ethereum o su Matic se usi Matic insomma token che vengono riconosciuti come mezzi di pagamento almeno in Svizzera lì se tu stai facendo la custodia di token di pagamento e di nuovo scusate è andata via la luce se tu stai facendo la custodia di token di pagamento se lo puoi fare fino al massimo di un milione di franchi contro valore di un milione di franchi se fai più di un milione di franchi devi incominciare a prendere la prima autorizzazione dunque questa sarà una cosa da discutere e verificare a me piace comunque pensare che quello che stiamo vivendo è la tecnologia che si evolve che cerca di rendere giustamente come spiegava Silvia più semplice l'approccio con l'utente dunque miglioriamo la user experience e il legislatore che deve un attimino seguire perché noi comunque abbiamo ancora delle leggi basate su un mondo centralizzato su un mondo di finanza tradizionale e il legislatore comunque deve prima capire che cosa stiamo inventando e poi decidere ok si applicano le leggi vecchie o posso fare una legge ad hoc qualcosa di nuovo eccetera purtroppo è un processo che ci vorrà ancora qualche anno il legislatore non è veloce come la tecnologia nell'adeguarsi ma almeno in Svizzera vedo che c'è questa volontà cioè piano piano stiamo cercando di capire cosa cambia nel discorso anche di protezione del consumatore e con la blockchain possiamo modificare rispetto alle leggi tradizionali ok un'altra domanda in realtà è una postilla la domanda che ti facevano scriveva riguardo le chiavi dici le chiavi le tiene chi ha fatto il factory dello smart control quindi la piattaforma ok dunque sì allora c'è un problema di custodia assolutamente ok poi c'è un'altra domanda per te riguardo i libri e diceva questa Dario che ti chiede scrivevi libri di diritto quale tra il codice civile italiano e il diritto privato e commerciale svizzero ah quindi quale tra il codice civile italiano il diritto privato e commerciale svizzero meglio si adattano a regolamentare gli nft e poi ti aggiunge perché non scrivere anche un libro sul diritto digitale decentralizzato e beh qua ti vogliamo sui libri di 650 pagine che devono leggere tutti allora in realtà sto scrivendo un articolo più che un libro proprio sul sulla tokenizzazione degli asset reali questo è quello che stiamo scrivendo la mia ultima fatica mettila così a quattro mani con un collega ma stiamo scrivendo questo libro che si avvicina tanto alle problematiche anche con gli nft dunque sì se ci seguite sulexify fra qualche settimana uno o due mesi pubblicheremo questo articolo quale tra il diritto civile italiano e quello svizzero guarda io sono un avvocato svizzero dunque ti posso dire quello svizzero l'abbiamo veramente adeguato alla blockchain la normativa svizzera prevede un articolo che riconosce il trapasso di proprietà con il trapasso del token un articolo che riconosce la possibilità di distrarre il token in caso di fallimento del custode un articolo che mi permette di tokenizzare i titoli e dunque di avere per legge le azioni di società ad esempio fatte direttamente sulla blockchain senza dover dire faccio un'azione e poi la tokenizzo dunque io so che il diritto svizzero è molto avanti su questi temi quello italiano che premetto non conosco non essendo un avvocato di diritto italiano però insomma parlando con i miei colleghi che sono avvocati di diritto italiano e vedendo quello che mi dicono i clienti italiani mi sembra che il diritto italiano qua è un po' più indietro anche i colleghi italiani in Italia me lo dicono Lars voi l'avete facile noi qua è tutto un po' più complicato perché le normative non sono adeguate alla blockchain va bene chiaro anche se insomma appunto l'Italia qualche volta ci condanna a essere in ritardo per causa di forza maggiore va bene io faccio una domanda a Silvia dato che non è ancora arrivata in chat ma ce la faccio volentieri io e riguarda uno degli eventi a cui hai partecipato di Life and Sync e sei stata lì anche per la promozione del tuo libro immagino e mi accennavi quando abbiamo avuto questa piccola conversazione che si sta pensando insomma questa questa associazione italiana che si occupa di diritto digitale diritto d'autore per i contenuti digitali sta creando o sta pensando a un nuovo modello un nuovo protocollo ci spieghi meglio innanzitutto questa avventura come è andata e cosa ci puoi dire in anteprima abbiamo partecipato appunto a a questo evento Coderblock Connect nel metaverso i Coderblock forse primo evento di networking B2B in un metaverso tra l'altro vi invito ad andare a vederlo perché è sviluppato da una società di Palermo da un'azienda italiana di un posto da ragazzi giovani un team molto affiatato e durante questo evento noi appunto abbiamo siamo stati partner di Licensing che è una società di collecting no profit per asset nativi digitali quindi loro si occupano di diritto della gestione del diritto d'autore per audio podcast video podcast che spesso hanno anche sono opere multirepertorio nel senso che in un podcast poi possono esserci più di un brano e quindi quello che stanno cercando di fare con molta intuizione voglia di collaborazione è quello di trovare appunto un nuovo modello per gestire questo tipo di licenze licenze che magari possano comprendere più di un brano all'interno di un'opera unica e per farlo si stanno confrontando stanno comunque coinvolgendo le altre società di collecting da SIAE a LEA altre realtà quindi altre realtà legali FIMI stanno proprio cercando di avere delle risposte ma più che avere delle risposte le risposte dobbiamo proprio costruirle in base ai casi d'uso reali è quello è quello il discorso perché spesso anzi perché questa tecnologia è il movimento che c'è proprio rispetto alle altre innovazioni è diverso proprio perché è un po' bottom up per cui ragioniamo insieme quali sono le problematiche quali sono le esigenze andiamo a creare qualcosa che sia effettivamente utile invece di imporlo dall'alto verso il basso quindi è quello che stanno un po' facendo si è proprio all'inizio si è proprio all'inizio di tutto questo dialogo però io credo che sia assolutamente promettente perché è necessario tutelare gli artisti soprattutto anche nel digitale insomma insomma è bello vedere i due mondi quello che succede in Svizzera che sono in anticipo appunto e usano le leggi come dire di diritto come ha detto prima e noi che stiamo lì a cercare di dire ma facciamola anche insieme vi aiutiamo noi e quindi siamo in questa specie di limbo va bene Paolo se vuoi intervenire dato che noi siamo in dirittura d'arrivo fallo pure o appunto si accettano altre domande in chat e così andiamo poi sulla parte finale di questa intervista ne approfitto innanzitutto grazie grazie mille mi approfitto per salutare Svizzera che non conosco e mi ha fatto molto piacere capire il percorso e Lassi invece che è un amico e quindi lo saluto e tra l'altro voglio ricordare a tutti che con Lassi siamo stati questo weekend a una delle conferenze più interessanti anche come numero di presenze in Europa su Bitcoin in questo caso non su NFT e che ha visto la presenza di sono stati 2400 biglietti saranno girate più di 3000 persone probabilmente a Lugano e questo è sicuramente un momento importante per per il mercato delle cripto non tanto per la conferenza quanto anche per quello che sta accadendo sul mercato in queste ore proprio qualche minuto fa il giudice ha detto a secca di non romper le cattole per una serie di motivi il mercato cripto sembra che sia destinato ad andare fuori da il market finito l'anno scorso perché il market non c'è più da quando da minimi sono a novembre ma si può ricominare a parlare di bull market ora nel bull market è qua la domanda nel bull market con i tassi di interesse però molto alti mi aspetto per il mercato cripto magari chiedo a voi cosa vi aspettate per il mercato NFT di vedere un forte sviluppo di aziende già esistenti con una forte presenza quindi dei token o delle blockchain principali che per poter devono salire di valore devono assolutamente trattare quindi la cosa essenziale sarà non più il sogno il progetto non più l'idea ma i numeri e numeri se Bitcoin sale sarà perché è un safe haven quindi serve serve effettivamente glielo dirà BlackRock glielo dirà chi vuoi se Ethereum salirà salirà solamente se ci finiscono i bond governativi se ci finiscono veramente i real asset senza che YC eccetera eccetera cioè plumi mostruosi fate conto che alcuni parlano di 10.000 dollari di Bitcoin scusatemi di Ethereum e non si rendono conto che per andare a 10.000 dollari si devono bruciare 5% e minimo di token tutti gli anni perché è una struttura che deve rendere come i tassi di interesse americani ora in tutto questo contesto no mi aspetto invece che ci siano grosse fortune per le start up infatti c'è una grossa sofferenza non lo dico io lo dicono Financial Times lo dicono tutti dei private equity cioè dei VC che stanno facendo investendo in pochissimi progetti quindi poco dal basso ora questo è il mondo cripto il mondo cripto lo conosco meno è la domanda che vi pongo è questa visto un po' la distruzione di valore che abbiamo vissuto in questo ultimo anno e soprattutto la mancanza di volumi oltre che di valore perché se ci fossero enormi volumi vabbè c'è un po' di speranza invece molte volte anche i token più rinomati scusate gli NFT più rinomati non c'è incontro tra domanda e offerta quindi in questo mondo che potrebbe ripartire quello cripto quello NFT che è sempre cripto come lo vedete e su che cosa potrebbe basarsi una vera crescita un vero sviluppo del mercato degli NFT se volete inizio io secondo me sicuramente come è stato detto più volte da tutte le testate ma in modo molto superficiale una bolla è scoppiata ma è quella del collectible magari fino a se stesso gli NFT come come utilities o come strumenti per la governance o come asset associati a beni reali come diceva prima Lars hanno tutte le carte in regola per per emergere soprattutto se riusciamo a introdurre dei modelli di business convincenti anche delle esperienze utenti agevolate e quindi staremo a vedere ma credo che comunque sia ci siano delle ottime prospettive per questo tipo di NFT allora concordo assolutamente Silvia magari farei presente a Paolo che la tokenizzazione di questi real asset come per esempio la musica in realtà il valore non è dato dalla parte cripto è dato dal valore di questo real asset questo aiuta però il mercato cripto perché è un use case per le criptoalute per esempio se io tokenizzo un real asset su ethereum ecco ci saranno più transazioni su ethereum che mi aiuta a bruciare più ethereum e a incrementare il valore di ethereum giustamente dunque sì sarà curioso di vedere io personalmente vedo un incremento nell'interesse della tokenizzazione di asset reali questo potrebbe essere il trend che porterà al prossimo bull market chi lo sa manca ancora un po' il mercato manca ancora un po' la liquidità giustamente anche come dicevi tu Silvia il problema è che tanta gente non sa come fare il wallet e non lo vuole fare pigra una roba l'altra e dunque non entra in questo mercato però d'altra parte dobbiamo dire che l'interesse ogni anno cresce anche l'education delle persone ogni anno è sempre di più dunque in realtà ogni anno va meglio manca ancora il grosso boom però prima poi penso tra la tecnologia che diventa sempre più semplice e le persone che si avvicinano sempre più di questa tecnologia fra qualche anno dovremo vedere anche questo grande successo ok grazie Paolo se vuoi aggiungere qualcosa fallo pure no no mi piace questo sono convinto che prima o poi parte il mercato in questo momento vedo un po' più di movimento sul mercato cripto e un po' meno sul mercato NFT e anche l'interesse da parte delle persone manca un po' e mi auguro che aiutate anche spinte da innovazione da un lato e dall'altro anche da una salita di prezzi magari di altri token non si possa riprendere rapidamente un percorso sì infatti lo speriamo tutti e ci auguriamo che sia anche il più presto possibile perché insomma questo bear market non finisce mai va bene io volevo dire altre poche cose poi vi lascio e vi ringrazio ancora una volta per essere stati con noi e ringrazio anche tutti coloro che ci stanno ascoltando poi ovviamente accettiamo altre domande alle quali poi potete anche rispondere dopo l'ultima che è arrivata dice secondo voi l'NFT riporterà valore alla musica e magari come ecco questo è l'esempio tipico di un romantico della musica come me chi vuole rispondere beh tu letti inizio visco la musica è l'oggetto sia del libro che della nostra piattaforma io credo che abbia assolutamente la possibilità di riportare valore alla musica comunque siamo in un momento storico in cui ci ritroviamo di fronte a dei modelli che non sono più sostenibili nel senso che il modello streaming on demand spotify apple e delle altre piattaforme insomma non è più sostenibile né per gli artisti moltissimi degli artisti scritti non guadagnano sufficientemente per vivere di musica credo che sia l'1% mi sembra degli artisti nel mondo che riesce a vivere di musica attraverso lo streaming considerando che le vendite di dischi ovviamente sono crollate da un lato abbiamo gente che non legge più e dall'altro lato ci siamo noi c'è Silvia che dice i dischi non si vendono più e lo streaming paga pochissimo quindi stiamo tutti pregando per questa tecnologia affinché veramente faccia riaffiorare tanta curiosità e tanto valore quindi immagino si possa collegare al discorso della lettura se mi permetti Roberto parliamo della potenza rivoluzionaria della blockchain la blockchain permette magari di distribuire meglio il valore perché oggi gli artisti creano il valore ma sono altri che guadagnano sono le case discografiche sono gli intermediari con la blockchain possiamo secondo me distribuire meglio il valore e dare più sogli agli artisti che sono quelli che veramente creano questo valore si e per fare ciò ovviamente gli artisti per primi devono capire che cosa è questa cosa e devono utilizzarle quindi qua basta rivedere tutta la puntata per capire quali sono le vere difficoltà e le soluzioni e poi ultima cosa per Lars leggevo che questo è il primo capitolo questo libro è soltanto il primo capitolo poi ci sarà un altro capitolo giusto che uscirà l'anno prossimo o sbaglio no no attenzione ragazzi ci ho veramente messo 15 anni a scrivere il primo allora diciamo che il primo libro ha avuto mi permetto di dire un discreto successo e tanta gente mi ha scritto e mi ha detto quando è che scrivi il secondo in realtà il libro è una storia fatta e finita quando l'ho finita non avevo minimamente l'intenzione di scrivere il secondo però è anche vero che la scrittura è un po' la mia passione e ho anche abbastanza tanta fantasia e dunque l'idea di un secondo libro in questo nel metaverso nell'universo di Napatei ce l'ho ma quando uscirà Roberto non lo so cioè onestamente dammi il tempo di leggere il tuo prima dammi il tempo di leggere il primo e poi mi fai sapere va bene va bene allora niente noi salutiamo gli ospiti e vi ricordiamo che noi di Fortissimo NFT saremo intervistati mercoledì il 25 ottobre alle 18.30 sul canale Instagram Cometa quindi poi vi linkeremo ovviamente l'account di riferimento se volete seguirci così come vi invitiamo al prossimo appuntamento alla prossima video intervista di novembre di cui non voglio svegliarvi ancora nulla io ringrazio Silvia e Lars per il loro tempo le loro informazioni e invito tutti voi a leggere almeno tu nel metaverso questo bellissimo riferimento all'Auzi e ovviamente il grande libro che apre mondi e metaversi particolari il libro di Lars Spirito di Napatei e c'è anche un sito giusto dove c'è un sito napatei.com perfetto e poi abbiamo il sito di Silvia holymusics.com perfetto e niente vi salutiamo e vi ringraziamo e alla prossima ciao a tutti ciao a tutti grazie a voi niente